ciao amici siamo pronti per partire arnolfo due stelle michelin toscana firenze siena siena provincia di siena colle baldezza quindi ci aspettano circa cinque ore di macchina arriveremo vediamo vediamo curiosi curiosi di sapere quali quali magie può fare la cucina di gaetano trovato di arnolfo vediamo siamo siamo prontissimi carichi ciao ragazzi ciao